Se volete provare un esercizio potente per i bicipiti femorali, potete provare il Nordic Amstring. Ora vi faccio vedere come eseguirlo. Io lo faccio qui, alla panca romana, difficile da trovare. In palestra potete farlo sulla seduta della Let Machine, attaccandovi appunto così con i talloni al tampone della macchina. Scendiamo giù, apriamo l'angolo tra la tibia e il femore. Questo logicamente è un esercizio per avanzati. Quindi molto difficili da eseguire, bisogna essere molto forti. Ma vi posso garantire che un curl fatto qui, quando riuscirete ad eseguirlo, significa che sarete già molto forti su tutta la catena posteriore. 8-10 ripetizioni già bastano, corpo libero, senza nessun carico. Ecco, concentratevi non tanto a scendere con la schiena, ma ad aprire sempre l'angolo tra la tibia e il femore. Per maggior sicurezza, le prime volte potete mettere un bastone puntato a terra e da aiutarvi in questo modo qua. Poi, sia nella discesa che nella risalita. Penso che già così può bastare.